Da TV Castelare Piano oggi vediamo come le classi quinte usano la LIM, cioè lavagna multimediale interattiva. Oggi vi presentiamo un lavoro sulle poesie che hanno fatto le quinte. Allora andremo ad ascoltarli. Il prezzo è pungente come una casa diata. Il prezzo è pungente come un uomo ricato. Il prezzo è pungente come della malinicata gente. La sera scende, la sera scende come una signora per le scale, la sera scende come un angelo protettore, la sera scende come un vecchio facciatore che la notte vuole acchiappare. La sera scende, la sera scende come una terra per le mani. A che cosa serve la terra? Serve per scoprire il sole. Come mai la terra è di colore blu perché serve per oscurare il cielo e dare la buonanotte a tutti? Da TV Castel del Piano vi abbiamo presentato la LIM, oggi 29 marzo 2011.